E ora vi faccio vedere la fine di Zafina dell'episodio personaggio di Tekken 8. Siamo in Italia, quello è il Colosseo. Guardate cosa fa Zafina. Sta cercando in tutti i modi di vincere. Ma avete visto chi sono quei due? Jinkazama e Kazuya Mishima. Sono a terra. Ora il potere demoniaco è sigillato in questo cristallo. Vai Claudio! Mi sembra che abbiamo vinto e ce l'abbiamo fatta. Zafina ci è riuscita. E anche Claudio. Ringraziamolo. È così che si concludono millenni di combattimenti. E ora? Zafina partirà per un nuovo viaggio. Io vi darò salutare. Iscrivetevi al canale e mettete un mi piace. Non dimenticate che io sono sempre Gabri Costa.